In Puglia il lavoro è più sicuro che nel resto del paese, almeno per quanto riguarda il secondo trimestre del 2017. Lo rivelano i dati del bollettino INAIL relativo ai mesi di aprile, maggio e giugno, in controtendenza rispetto al dato nazionale. Mentre il trend nazionale dell'andamento infortunistico è dell'1,3 registrati a giugno del 2017, in Puglia abbiamo invece un valore più significativo di qualche punto percentuale in diminuzione, quindi non in aumento. Per i mortali abbiamo anche a livello nazionale un andamento levemente crescente, in Puglia invece abbiamo un andamento decrescente intorno al 4%, se ben ricordo, forse 3,33. Per le malattie professionali invece abbiamo un andamento decrescente sia a livello nazionale che regionale, piuttosto significativo, in Puglia del 9,50. In ogni modo penso che i fattori di influenza di questo andamento siano molteplici, ma io credo e ritengo che tutte le iniziative che abbiamo posto in essere in questi anni, sia in collaborazione con la regione, con la scuola che con istituzioni del territorio, abbiano comunque contribuito a mantenere questo trend e aumentare questo trend di riduzione. La chiave è la diffusione capillare della cultura della sicurezza sul lavoro, tema sul quale linea è emesso un avviso pubblico per la realizzazione di progetti rivolto alle aziende. Lo stanziamento complessivo è 300.000 euro, prevede chiaramente il finanziamento, una compartecipazione dei costi al 50% indicativamente, con un massimo di 50.000 euro per progetto. I settori di interesse per i quali noi chiediamo di presentare le proposte sono edilizia, sanità, metalmeccanica ed agricoltura. È il secondo che pubblichiamo in Puglia e già il primo ha avuto notevole successo, abbiamo in corso la realizzazione di sette progetti e chiaramente speriamo che anche quest'anno abbiamo dei risultati significativi e vogliamo mantenere e ridurre questo andamento decrescente del fenomeno infortunistico anche con questa iniziativa che si aggiunge alle altre che realizziamo come in il regionale.